Questa è Quasiradio.it Quasiradio.it Io sono stata cetica e raggiolo E l'ho ben vista la vita che fanno Mettano tre castagne in un paiolo E con quell'acqua la minestra fanno Siamo in Casentino nel comune di Castel San Nicolò Dove ha sede la ditta AGFSRL Noi costruiamo qualcosa di molto particolare Le canne per organi da chiesa È sicuramente una lavorazione che si incontra raramente Una lavorazione prevalentemente artigianale e manuale E siamo diciamo in Casentino dal 1958 Un'attività che iniziò mio padre come ragazzo di bottega E che poi è proseguita rilevando man mano l'azienda E ingrandendosi Lavorando per l'Italia e tutto il mondo Costruendo questo prodotto assolutamente particolare Assolutamente strano Ma anche molto molto interessante Noi continuiamo di fatto una lavorazione che è tradizionale Che utilizza pochissimi macchinari Che sono sempre gli stessi E sono usati da tutte le aziende che nel mondo fanno il nostro stesso lavoro Non ci sono particolari strumentazioni o particolari innovazioni È un settore abbastanza statico in questo senso Anche perché è considerato un pregio che la lavorazione esegua Diciamo così una sorta di storicità E certe fasi sono sempre un pochino le stesse Cambiamenti è anche difficile farli Le canne per organo sono strumenti di metallo E hanno una funzione prevalentemente sonora all'interno degli organi della chiesa Poi c'è la parte bella, quella che vediamo Che vediamo noi quando entriamo in chiesa In una serata a concerto Quelle sono le canne di facciata Che sono spesso anche esse sonore Ma possono essere anche semplicemente ornamentali Il sistema di costruzione prevede l'utilizzo di diversi materiali Sono leghe stagno piombo prevalentemente E sono queste le canne più pregiate E poi si usano anche zinco e rame Non è facile proseguire questa attività Fondamentalmente perché va formato il personale ex novo Quindi non troviamo nessuno che lo sappia fare Dobbiamo cercare di capire Chi può avere un'attitudine manuale a farlo Inmetterlo nella lavorazione E sperare che apprenda quello che deve essere fatto Perché è un lavoro veramente dove la manualità E anche la conoscenza dei numeri, delle misure La capacità di capire come una fessura più o meno larga O una saldatura che non rispecchia gli standard che devono essere In realtà non va bene perché non fa produrre alla canna Il suono che deve produrre Quindi non è facile nemmeno tramandare questo lavoro Per la difficoltà a trovare persone che lo imparino Le canne per organo vengono di fatto costruite per formare dei registri Registri che possono essere di 61 note Oppure anche con meno canne Arrivano anche 56-45 a seconda della progettazione dell'organo Che è sempre molto personale E viene eseguita dall'organaro Con la collaborazione di ingegneri, organisti, esperti di acustica Dipende anche dalla dimensione dell'organo Ogni registro di fatto simula fra virgolette uno strumento musicale E quindi possiamo avere organi piccolissimi dove c'è soltanto un registro Oppure possiamo avere organi dove registri sono 20, 30, 40, 100, 120 E avere dimensioni anche molto molto diverse Abbiamo canne piccolissime e canne che sono 10 metri Quindi veramente la varietà di lavorazioni Ma anche la varietà di sonorità, di composizione di un organo Sono tantissime ed è proprio lasciato all'organaro, al progettista La fantasia e anche l'onere di stabilire la costruzione di oggetti Che sono, diciamo, opere d'arte e anche di ingegneria E quindi sono anche molto dispendiosi e necessitano di molto tempo per la lavorazione Se le persone ci vengono a visitare Noi siamo aperti Ci fa veramente piacere far vedere quello che facciamo Spiegare quello che facciamo Perché è una cosa, tutto sommato, molto 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 particolare E un tuffo nel Medioevo, perché di questo si tratta Fa sempre bene È una bella cosa vedere come si lavorava tanti anni fa E come si può continuare a lavorare anche adesso Grazie